Il settore banca ha la sua dinamica, i suoi movimenti, i suoi anche acquirenti nel mercato. La Fondazione Bruschi appartiene a un altro mondo, è un mondo culturale, un mondo anche economico perché la Fondazione Bruschi costituisce un perno per lo sviluppo non solo culturale ma anche turistico e economico della nostra città. Quindi tutti quanti noi siamo impegnati affinché la Fondazione Bruschi è e resti sempre ad Arezzo. A 20 anni dalla scomparsa di Ivan Bruschi la sua casa museo, ormai patrimonio culturale della città di Arezzo, cambierà amministratore, questo il suo destino legato ovviamente alla vendita di nuova banca Etruria che è subentrata alla BPL nell'amministrazione della Fondazione Ivan Bruschi, nata per volontà del fondatore della Fiera Antiquaria per la gestione dei prestigiosi beni culturali conservati all'interno. Questo aspetto non sembra preoccupare gli addetti ai lavori della Fondazione che oltre alla Casa Museo di Corso Italia gestisce anche la Galleria di Antiquariato di Piazza San Francesco. Qualsiasi sia il nuovo amministratore, fanno capire, anche fosse un fondo estero dovrà muoversi all'interno di vincoli molto precisi. Ne è convinto anche Pierluigi Rossi, primo rettore della Fraternità dei Laici, che fu amico di Ivan Bruschi ed è da sempre impegnato a far sì che la sua volontà sia rispettata. Confermo tutto l'interesse e tutta la volontà che la Fraternità dei Laici ha per difendere il patrimonio artistico e culturale che costituisce proprio il patrimonio della nostra città perché io ho curato, ho seguito anche come medico, ho fatto tante trasmissioni con Ivan Bruschi e siccome era un amico che conoscevo, a lui ho promesso anche di stare vicino alla Fondazione ed eccomi qua che esprimo questa mia volontà netta e chiara a favore della volontà proprio di questo nostro grande concittadino.